Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Finalmente rivelate tutte le carte, tutte le rarità per quanto riguarda Phantom Nightmare Con tanto di qualche esclusiva TGG Prima di iniziare come sempre ragazzi invito a iscrivervi al nostro canale E prima delle sempre aggiornate Ricordo l'iscrizione ci vedo tantissimo E spero di arrivare a 4700 entro fin del gennaio Credo che sia improbabile però comunque lo spero Qualora ci riuscissi vi ringrazio tantissimo Link Fantastic Store per ordinare Phantom Nightmare Codice sconto e tutto quanto Passando tramite il link affiliato ovviamente Ci date una grande mano Detto questo andiamo Ci stanno delle chicche molto interessanti E ve lo dico subito No aspettate Queste sono le quarter Ovvero maghi, legame, ok I goblin biker Populus che gli hanno cambiato il nome Quindi va bene Horus con il nuovo Stavo registrando prima il video di Legacy of Distraction per domani Ho visto che l'hanno chiamato Lo Non dico altro Saffira Ethermachina Quarter Skull Guardian Jubel Enigmaster Il Ray Raptor Goblin biker Moj Spetter Otrus Ovviamente è... Come si dice? La schermata è così perché non mi ricordo i nomi Allora Secret Abbiamo Horus Che pensavo non mettessero Ultra Novox Lo chiamo Novox perché l'olio mi rifiuto Che tra l'altro in italiano è Voce Muta Voce Muta è perfetto Mi piace un botto Lo no Enigmaster Packbit Secret Anche lui me l'aspettavo Ultra Dove mai che abbiamo visto Maghi Spetter L'abbiamo visto Poi Rampel Teofel Questo me l'aspettavo Perché comunque è una carta molto utilizzata O comunque è stata utilizzata molto nel meta OCG Quindi Credo che verrà utilizzata tantissimo anche qui Iron Thunder Hammer Anche questo un po' me l'aspettavo Ultra Pro Secret Counter Trap molto interessante Vedos Populus Ultra E non dovrebbe costare un fottio Però Però Insomma Populus Ultra Goblin Biker l'avamo visto Ultra Sapphira Ultra Enter Machina Ultra E lui Skull Guardian Yubel La fusione ultra rara Così come Red Raptor Mario Spectre Draco Promethean Princess Black Mutation La Priestess Awakening of Avedos Spirito di Yubel Super Samsara Super Anche Red Raptor Sardina Bianca I Goblin Biker Kiff Epsix Sauravis Molto Probabile Aromalite Anche Magispecter Sì lui Super Però Anche Comune Aromalite Aromalite Vabbè Red Raptor Rosemary Super Nightmare Pain Super Rank Up Super La Field Aorus Super La Barriera Super Respetter Terror Of The Nether Super Così come tutte le altre carte Per quanto riguarda Ashland City E qui abbiamo tutte common Anche il Dark Guardian Common Che vi devo dire Common non è malaccio Si trova facilmente Quindi raga Come avete potuto vedere Yubel È molto fattibile Yubel è molto fattibile Io credo Non dico che magari Con un box Ve lo fate tutto Però Con un box Yubel Ash E la maggior parte Delle carte Yubel Potrebbero uscire Tranquillo Urban Fusion Common Ottima Ottima Protean Ok E qui ci sono Delle carte Tra l'altro Avevo registrato Ancora non è uscito Ovviamente Le carte OCG Che non sono mai arrivate Ovviamente Ci sarà la postilla Perché queste qui Sono effettivamente Arrivate Gli effetti E li vedrete In quel video E poi abbiamo Qualche esclusiva TCG Psychic Processor Possiamo andare Questa carta E controlliamo Per evocare Fino a due Macchina Psichico O macchina Psico E o Cybers Dalla mano E possono attaccare Direttamente A questo turno Inoltre A stand by face Del prossimo turno In cui questa carta È stata bandita Possiamo aggiungere Questa carta Alla mano È Psichico In realtà Anche per Ciccio Perché pure Questo qua Era psichico Non me lo ricordo No Lui è Cybers Però insomma Poi Psichic Arsenal Targettiamo Psichico E controlliamo E paghiamo Life Points E uguale al livello Per 200 Aggiungiamo Macchina Con lo stesso attributo Ma con un livello Superiore Dal deck Alla mano Durante Il my face Cessione Nel turno In cui questa carta È stata mandata Possiamo bandire Dal cimitero Questa carta E targettare Ognuno Dei mostri Psichico Macchina E banditi Ne piazziamo Uno in fondo Al mazzo E se lo facciamo Aggiungiamo L'altro Nella mano Ok Swallow Core Wire Tributiamo Un bestia Alata Nella mano Oppure Scoperto Per aggiungere Un bestia alata Dal deck Alla mano Con lo stesso livello Nel mostro Tributato Va bene Emergency Upport Targettiamo Uno dei livelli 5 O inferiori Psichico Banditi O nel cimitero Revochiamo Exist Forza Mandiamo Una carta Exist Dal deck Al cimitero Alla eccezione Di lei O Se un mostro Exist È sul terreno E ha un mostro Exist Come materiale Possiamo Aggiungere La carta Exist Alla mano Invece Durante la mind Phase Eccezione Turno In cui questa carta È stata mandata Possiamo bandire Questa carta Dal cimitero Stacchiamo Un materiale Dal mostro Exist Su ogni terreno Se poi Il materiale Staccato Era un Exist Possiamo Vogliare Specialmente Quel mostro Dal cimitero In posizione Difesa Oppure Bandirlo Voglio Bandirlo Vabbè Ehm Poi Sì Mi hanno In coglioni Mi chiedo Venia C'ho un mal Di testa Da tre Settimane Allora Se Un mostro Scoperto Che controlliamo Cambia la posizione Coperto In difesa Possiamo Targettare Una carta Tutterraneo E spaccarla Se uno Più mostri Flip Controlliamo Vengono Flippati Anche Durante Il damage Possiamo Targettare Uno Di essi E fare Danno All'oppo Il livello Per 200 Tricorn Se uno Più mostri In nostro Possesso Vengono Distrutte In battaglia Dall'effetto Una carta Possiamo Carre Specialmente Questa Carta Alla Mano Se viene Mandata Dalla Field Al Greve Targettiamo Un mostro Nel Cimitero Con lo Sesso Tipo E Attributo E un Mostro Contogliamo E aggiungiamo Il mostro Alla Mano Poi Abbiamo Con Bird Double Flip Possiamo Carre Specialmente Il mostro 5 Superiore Flip Dal Deck Coperto Durante La Battle Se questa Carta È La Mano Possiamo Targettare Un mostro Coperto Sul Terreno Lo mandiamo Al cimitero Se lo Facciamo Evochiamo Specialmente Questa Carta Coperta In Posizione Di Difesa Per Finire Swarm Of Centiped Se viene Flippata Targettiamo Un altro Mostro Sul Field E Lo Mettiamo Coperto In Difesa E Poi Lo Possiamo Flippare Cioè Possiamo Metterlo Coperto In Difesa Una Volta Per Ok Cosa Dire Cosa Dire Torno Indietro Cosa Dire Allora Facciamo Così Così Vedete In Toto Tutte Le Realità Pensavo Che ci fossero Secret Diverse Devo Essere Sincero Soprattutto Skull Guardian E Populus Pensavo Secret Così Anche La Princess Ok Non me L'aspettavo Però Diciamo Insomma Set Abbastanza Fattibile Cioè Nelle carte Molto Fattibili Speriamo Che Con L'opening Riusciamo A trovare Qualcosa Di Interessante Detto Questo Ragazzi Fatemi sapere Cosa Pensate Ovviamente Credo Che Domani Oltre Oltre Of Distraction Faremo Un'altra Analisi Per Quanto Riguarda Questo Qui Per Vedere Non Avamo Già Fatto Un Pochino Però Nel Dettaglio Altre Cose Perché Per Vedere Come Potrebbero Impattare Detto Questo Fatemi Sapere Cosa Ne Pensate Noi Come Sempre Ci Vediamo Nel Prossimo Video E Un Saluto A Tutte